Buongiorno, è lunedì, ho sonno, sta molto freddo Allora, ultimamente non sto facendo la più sana delle colazioni ma vado di cioccolata fatta con latte di riso e... That's it! C'è una parte di me che un pochino si vergogna farvi vedere tutto quello che mangerò questa settimana perché penso che le persone si aspettino tipo grandi cose, dai, guardate una week tipo, oh mio dio, quella ragazza com'è, super healthy, com'è, uh 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 invece io nel senso, mangio quello che ho voglia di mangiare lo vedrete, lo vedrete, capirete e quindi, però ecco, non sono un medico, non sono una nutrizionista non prendete quello che mangio tipo, come una regola di vita sono semplicemente magari delle idee di ricette o cose del genere Bene, ci vediamo a pranzo! Ragazzi, sono arrivata a casa adesso, sono le 4 di pomeriggio ero da Muriel fino a poco fa che abbiamo fatto i biscotti che avete visto in uno dei video la settimana scorsa e quindi i biscotti sono stata l'unica cosa che ho mangiato finora, fantastico e quindi devo fare un pranzo merenda e allora adesso penserete che io mangio sempre malissimo ma vedrete nei prossimi giorni che non è così, ho deciso di farmi questo dei cup noodles vegetariani perché non voglio mettermi a cucinarli qualche pomeriggio che poi tra 3 ore devo fare la vera cena quindi questa è l'unica soluzione Intanto guardo Mr. Kate perché è una delle mie preferite ever non sapevo che cosa mangiare ma ho deciso di fare delle lenticchie con le zucchine cioè le zucchine, mezza zucchina olio, aglio, zenzero, cipollotto, vino bianco, salsa di soia e una punta di dado lenticchie rosse, le mie preferite zucchine, curry, pepe e peperoncino le lenticchie stanno andando, ho messo su l'acqua per il riso e nel frattempo mi vado a fare una doccia perché è la tecnica migliore non mi sopporto di lavarmi dopo aver mangiato quindi Tadà! Bene si mangia, io nel frattempo ho anche già lavato i piatti perché mi piace lavarli mentre sto ancora cucinando perché con la panciapina non ci riesco ho anche già messo sull'acqua per il tè per dopo perché dopo sono in diretta radio e berrò del tè con il miele mangia qualche dattero che ho scoperto quest'anno perché un tempo pensavo che fossero delle cose disgustose in realtà sono buone e poi nanna direi che ci vediamo domani si sto bevendo un'ultra cioccolata e montando il video di oggi e ogni tanto faccio qualche pausa giocando ad animal crossing è ora di pranzo e farò le mie adorate patate al forno ma prima qualche oliva perché le adoro soprattutto se sono piccanti patate olio uno strano sale al curry preso in Spagna una spolverata di pepe e del rosmarino mescoliamo in genere io le tengo una mezzoletta a 200 gradi e verso metà le giro un po' tadaaa le mie patate con un'insalatina molto semplice con pomodori, olio e sale potrei aver fatto un pochino trappi patate però va bene così perché sono buone allora sembra un ragazzino di 15 anni con la tinta in testa e il trucco colato nella doccia sto morendo di sonno con un sacco di cose da fare e da mattina mi devo alzare super presto quindi devo fare la cena più veloce della vita il che significa una minestra quindi olio aglio cipollotto e un po' di verdure random che avevo in frigo quindi cavolini di Bruxelles e un cavolo rapa o cavolo qualcosa poi aggiungo un po' del mio amato risotto di cereali per profumare il tutto metto un po' di queste spezie prese a Siviglia che purtroppo stanno finendo e mi piacciono mega tanto e un pochino di peperoncino perché a me piacciono le cose super piccanti ora secondo me il trucco è dimenticare le cose sul fuoco con tanta acqua mi raccomando ma nel senso lasciarle andare, dimenticarsi di loro anche perché per esempio il risotto di cereali ci mette un sacco a cuocere e cuocere bene quindi cioè io lo lascio almeno mezz'ora, tre quarti d'ora, anche un'ora se posso e lo lascio andare così i profumi riescono veramente a unirsi tra di loro, capito? o almeno questo è il mio modo di cucinare per l'unico che sia giusto vado a lavare i miei capelli è molto tardi, ho lavato i capelli, ho messo sulla crema più unta che ho perché la mia pelle è secchissima e la mia minestra non è più una minestra a volte capita che ora che sono uscita dalla doccia l'acqua si è tutta riassorbita e mi rendo conto che ho messo così tanto riso che non ha senso aggiungerci acqua perché tanto vale farlo diventare un risotto ora io bevo il mio tè, sto provando un nuovo tè alla pesca questo è il mio bellissimo miele cerco di non perdermi più su youtube, finisco di montare il video e vado a nanna a domani io volevo davvero fare una corazione diversa e più interessante però sono in straritardo e quindi in realtà sto anche mangiando i biscotti fatti con muri all'altro giorno perché sono buoni e sono sani e devo riempire la pancia in qualche modo perché non so se oggi faremo pranzo oggi andiamo a girare il suo videoclip buona sera, io mi sono appena struccata per questo ho questa faccia tutta strana sono morta allora in realtà non mi ho fatto vedere il pranzo perché appunto eravamo fuori per il videoclip di muriel e siamo andati a mangiare poi e non avevo come la telecamera e mi sono dimenticata di filmare con il telefono so di fatto che siamo andati in questo ristorante giapponese molto buono che si chiama mi sembra moon e ho preso dei gyoza vegetariani, del ramen vegetariano e degli uramaki avocado Philadelphia che sono i miei preferiti e adesso in realtà è ancora relativamente presto però voglio mettere su il sugo per la pasta un pochino prima perché mi piace lasciarlo andare un po' come avete visto anche con le minestre e le altre cose almeno mezz'oretta, tre quarti d'ora quindi sugo la mia classica combo iniziale ovvero olio, aglio, zenzero, cipollotto e basta mentre li cuoce io sto tagliando un pochino di olive perché poi ci metterò un intero robo di pomodoro che lo so tutti mi diranno che è assolutamente esagerato Alberto mi dice che invece di fare la pasta al sugo io faccio il sugo alla pasta e è così ora che ho messo tutto insieme ho messo anche un pochino di sale aggiungo una piccola spolverata di pepe ma non oltre perché non voglio rovinare troppo il gusto delle olive e anzi per accentuare il gusto delle olive io faccio una cosa che se mi stanno ascoltando dei veri cuochi veramente mi diranno che sono un'azzozza e che non si fa ma io lo faccio ed è mettere un paio di cucchiaiate del liquido in cui sono immerse le olive che personalmente mi fa impazzire e forse per me io me lo berrei la mattina buon appetito bene io adesso bevo il mio tè alla pesca molto buono mi sta venendo un raffreddore non respiro più e continuo a salutire quindi stasera cerco di andare a dormire un pochino prima perché così non si può vivere e ci vediamo domani la mia colazione oggi è un pochino diversa dal solito perché sto male e in realtà non vorrei mangiare niente ma mi obbligo e vabbè l'altro giorno ho preso del pane che spero sia ancora buono ieri ci hanno regalato questa tipo crema di nocciole vegana e questa roba che non è ovviamente pinacolada alcolica e quindi berrò questo e questo è il termometro per cui devo misurare la febbre perché sto veramente da schifo allora sto davvero da schifo ho trovato la forza di uscire e prendere un po' d'aria mi ha fatto bene ma dovevo assolutamente perché ho comprato delle arance e dell'aceto di mele da bere con acqua e miele perché sono le mie due cure quando sto male e spero veramente di ripigliarmi perché non so come fare a vivere e lavorare soprattutto se mi sento così comunque adesso mi sforzo di fare il pranzo anche se non ho fame per niente oggi stiamo super easy metto a bollire i cavolini di bruxelles e vi faccio questi burstel vegetali e via tadaaa allora i cavolini sono appunto semplicemente bolliti con un po' di sale e pepe sapete che mi piacciono i cibi da nonna e i burstel li mangio con la mia amata senape prima dose di acqua, aceto e miele allora sono le 10 di sera io ho deciso di non mangiare perché non avevo fame e non avevo voglia di cucinare mi sento veramente uno schifo però adesso mi sono detta boh qualcosina e allora io veramente c'è questa settimana come ve l'ho passata sembra che faccio cagare a mangiare però ho deciso di farmi il secondo coso di questi non ne ho altri quindi non potrò cedere alla pigrizia altre volte e così almeno giusto da montargio qualcosa prima di dormire oh no no neanche più la forza di tenere sulla telecamera ragazzi mi sono bruciata ma ci si può bruciare facendo dei cup noodles non si può aiuto adesso ho paura comunque intanto ho messo sull'acqua per la mia medicina perché di base sono contraria nel senso che preferisco curarmi in maniere naturali senza prendere cose però sto veramente troppo male e devo lavorare troppo non posso cioè prendermi una settimana di vacanza e quindi that's the only way io adesso mangio e corro a dormire ci vediamo domani buongiorno allora mentre si scalda la mia cioccolata io faccio un po' di spermuto d'aranza perché sto morendo questi sono i momenti in cui mi manca avere qualcuno che si prende cura di me e mi fa la spermuta d'aranza non devo farla io e però è buona uguale oggi a pranzo ho un ospite che mi aiuterà a cucinare in modo che quello che facciamo sia mangiabile a tuo rischio e pericolo si la faremo il vagabondo dove tiri su tutto vai ce la puoi fare spaghetti ai funghi spaghetti ai funghi ammirate come sono professionale mentre non so assolutamente tirarsi i pibli ottimo quindi uno spaghetto alla volta facciamo il piatto in una cucina e questa è la porzione vuoi una mano? no tranqui ce la posso fare è un lavoro davvero di due buon appetito buon appetito shanty ha appena detto che il sugo l'è venuto molto meglio senza di me ma purtroppo la pressione dell'ospite incide anche l'inesperienza dell'ospite dici la panna ah la panna e ho detto panna a volontà ora sto mettendo una spezia che mi ha consigliato shanty ah la mette dappertutto? si è buona tutti quelli che la provano non tornano più indietro perché piace a tutti quelli che la provano non so perché ma ah è buonissima cioè non c'entra nulla ma questa no infatti non l'ho messa perché si ci sta ci sta buon appetito questa sera siamo a cena fuori hai voglia di spiegare dove siamo? come facciamo? spiega un pelo di barba scusa? facciamo la pizza però non bevi così perché siamo pelati la pizza della vita sto spalmando l'olio piccante sito non c'entra darmi che zotto e poi il regalo di san valentino? Le mie due medicine di oggi Che schifo l'aceto Adesso c'è che devo provare questo biscotto Mi farò non malare di nuovo E sbricciano Via, non mi chiede Sbricciano l'avento come lezzo Sgocciolano Siamo a casa di Albi e stiamo preparando le panze per tutta la famiglia Albi cosa stai preparando di buono? Risotto No, un riso al gorgonzola Ma il risotto è giallo Orsi di ozzo Come si fa senza vino? Devi mescolare tu e me Fino che io non lo vado a prendere Va bene Guardate che riso bellone Che ridi? Bellone Lo è Questa sera siamo venuti a mangiare a Bergamo Comunque vicino Perché c'è un posto speciale No, ma no È l'unica che non voglio No, ma no Buongiorno ragazzi Allora questa domenica in realtà è stata completamente scombinata Stamattina abbiamo fatto una cioccolata calda con i marshmallows Che non vi faccio vedere in questo video Perché ci sarà la videoricetta tra un po' di giorni E non abbiamo fatto pranzo perché abbiamo fatto mille robe E adesso facciamo un prena pranzo più cena Che sto andando a cucinare adesso Voglio far andare un po' delle cose che rimangono in frigo Quindi ecco qua Sembra tutto molto triste ma gli daremo un senso Ragazzi guardate non ho abbastanza pasta Quindi devo fare un mix che non ha assolutamente senso Non ha senso sto pranzo zi Questa prena Serena lanciamo l'hashtag prena Yeah Ecco la nostra prena totalmente no sense Alberto buon appetito Hai una faccia strana e dietro c'è il caos Fa tutto ancora più ridere Ha senso? Fondere le cose, i resti del frigo Secondo me ha sempre senso Cosa prendi? Bevo Buona sera ragazzi Allora in realtà Alberto è andato via da poco Io sono qua che sto morendo A parte la prena non abbiamo fatto più niente Non abbiamo più mangiato nient'altro dopo Quindi non ho più niente da mostrarmi La settimana è finita E devo dire che non è andata per niente come pensavo Nel senso che ci sono state un sacco di eccezioni Io che stavo male Siamo andati fuori Non è stata per forza proprio la mia settimana tipica Poi in molti momenti in cui ho mangiato cose giusto così Però ecco volevo essere sincera realistica E quindi niente Questa è stata la mia settimana E spero che abbiate apprezzato Non lo so Questo piccolo tuffo della mia alimentazione Fatemi sapere se vi piacerebbe Non lo so un altro what I eat in a week O preferireste magari un what I eat in a day Più dettagliato O meglio fatto Perché comunque quando filmo un'intera settimana È difficile farlo super carino Cioè se faccio semplicemente tre pasti in un giorno Probabilmente è molto più facile filmarlo meglio Quindi ecco Fatemi un po' sapere cosa ne pensate Non giudicate troppo le mie abitudini alimentari Perché come detto È semplicemente una settimana di tante Cioè ogni settimana è diverso Perché alcune cose sì sono classiche Le avete viste Però ecco E settimana cambia E quindi niente Questo è quanto Fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate Iscrivetevi se non siete ancora iscritti Perché voglio parlare più spesso di cibo E magari portare ricette E cose di questo tipo E niente Noi ci vediamo domani Nel prossimo video Ciao Ciao